ciao e benvenuto un nuovo video allora oggi spacchettiamo quello che mi ha mandato sefora anche se l'ho visto online dalle ragazze che hanno aperto i pacchetti in questo periodo e se è quello che penso dico wow però prima di iniziare vi devo chiedere come vanno le luci perché io dallo schermo qui vedo molto scuro potrebbe essere perché è molto nuvoloso potrebbe essere fortuna che non è un video makeup oggi solo spacchettamento e nel stesso tempo come va l'audio perché ho dovuto mettere il microfono esterno qui perché solito posto a mettere giù la maglia non c'è niente da vedere però allora sì prima ho fatto un altro video se non si è capito io direi di andare ad aprire subito questo pacchetto anche perché è ancora chiuso anche se ho sbirciato qualcosina ma lo andiamo ad aprire e vediamo se davvero quello che penso allora ecco aperto sì immaginavo che fosse questo e sono contenta perché ho curioso di provarlo allora briogeo don't despair repair è un set per i capelli questo anche mini ok con formato da viaggio quindi è un set di prodotti con formato da viaggio ok e qui le mie informazioni in merito si finiscono avessi preso però delle forbici sarebbe stato molto bello dice che comunque adatto a tutti i tipi di capelli ti prego apriti in un tempo decente ok e andiamo a vedere cosa c'è all'interno beh formati da viaggio ma sono abbastanza grandi cos'è questo ma è una fialetta di dopo 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 andiamo in ordine andiamo in ordine dobbiamo leggerci da tutto questo set perché l'avevo visto che c'era ma non ho letto allora c'è il shampoo su magari super idratante shampoo questo è da 59 ml sto cercando ad annusare una cosa chiusa potrei farcela mi sembra abbastanza neutro allora io ho sentito non è non ho provato queste poti ma dicono che sono davvero validi e funzionali quindi sono curiosa di provare perché dicono che mantengono le promesse poi abbiamo il super mostro idratante balsamo sempre da 59 ml che dice di andare va bene per i capelli da riparare e ci piace e per ultimo abbiamo la maschera quindi un trattamento completo completo sempre da 59 ml a risciacquo si lasciare agire 10 minuti e risciacquare dopodiché ecco quello che volevo leggere trattamento olio questo ci può piacere è un olio naturale per i capelli fatto in fialetta ma sapete che io sono curiosa quindi sa di niente non ha un profumo mentre nella confezione facciano vedere che l'olio ha le rose i boccioli con ceramidi per capelli secchi e danneggiati quindi un trattamento finale per riparare e chiudere le cuticole e previene le dommage la rottura ok allora ne avevo sentito parlare ho visto altre ragazze che effettivamente ne parlavano bene anche perché oltretutto oltre a essere un marchio realizzato in america ma 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 in corea è vegan quirli free ed è vedevo qua anche silicon free questo è vero e gluten free ecco perché ne parlavano così bene i prodotti sono un po costosi non sono proprio a buonissimo mercato ma se davvero funziona come dicono perché no consiglio questo set perché c'è tutto e si può provare a vari prodotti altra cosa che vedo dentro questo ecco un altro set questo non mi aspettavo ed è questo è un marchio davvero molto costoso quindi in questo caso il mini set con più prodotti vale la pena allora questo è il grande lash md tutti i prodotti per ciglia e sopracciglia ed è vegan cruelty free davvero molto validi oltretutto ed è vedo che due prodotti sono stati fabbricati in america e uno in italia ok ora vediamo che cosa contiene perché l'ho sentito parlare so che costoso ma non ho testato niente di questo marchio quindi andiamo a vederlo assieme grande lash md è un siero ristrutturante per le ciglia e questo ci può piacere assai andiamo a vederlo 91 per cento di lunghezza in più ma noi andiamo a vederlo è ancora chiuso dice di sì proprio siero ci piace che sia un siero ok per quattro settimane di applicazione quindi un buon set non dice però da quanto è lo andiamo a vedere dopo perché poi abbiamo il grand brown siero per le sopracciglia in questo caso per sei settimane quindi c'è proprio diversità del siero non solo dell'applicatore non ha profumazione ci sono anche le istruzioni che dopo andremo a leggere e l'ultimo è un grand mascara condition peptidi mascara revitalizzati in questo caso per le ciglia andiamo a o proprio chiuso questo è il made in italy ah ma è nero quindi è proprio un mascara carino l'applicatore ok andiamo a leggere le istruzioni perché per applicare un mascara ci servono le istruzioni certamente dunque come dico sempre se servono le istruzioni per qualcosa vuol dire che è molto complicato trattamento ok quindi sono trattamenti da fare alla sera lasciare in posa tutta la notte sia quello per le ciglia che quello per le sopracciglia che permettono di infoltire rinforzare ed favorire la crescita e questa cosa ci piace assai anche perché ed è pensato esatto esatto ed è pensato proprio per andare a ristrutturare e poi abbiamo il mascara che comunque contiene peptidi sinceramente questo è da testare così non mi dice tanto ma l'applicatore mi sembra valido il colore mi sembra un bel nero intenso quindi lo testeremo anche perché questo è considerato come brand di lusso visto il costo e niente questo set sinceramente mi incuriosisce molto quindi ringrazio Sephora per avermelo inviato volevo vedere con voi le istruzioni se c'è qualcosa ecco se l'avessi letto come sempre quindi il lesce md per quattro settimane di applicazione per le ciglia il grand brown per sei settimane di applicazione e il grand mascara invece dice proprio che è una formula made italian mascara con peptidi, pantenolo, natural wax, cere naturali e un estremo volume e luminosità ci può interessare apprezzo sempre il fatto che sia indicato così ci piace ci piace e lo proveremo quindi a questo punto la parola a voi fatemi sapere quale prodotto vi ha incuriosito di più quale volete che testo per prima quale volete per prima la recensione ditemi voi come sempre e noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino? mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao